terzo giorno di piccolini attaccati ai genitori questa è la situazione piccolini sono sempre attaccati alla mamma sembra che durino ho cominciato a schiudere le uova di artemia nei prossimi giorni proverò a cibarli con l'artemia salina appena sgusciata la mamma vuole passare al papà i piccolini ok ma loro sono calamitati addosso a lei spero di tenervi aggiornati per tutto il periodo appunto lo spero proprio perché voglio che vadano vada avanti questa idiata e vediamo se sarò fortunato quando se riesco a fare qualche ripresa nel momento in cui gli do le artemi appena sgusciate piccolini vediamo un po ciao a tutti grazie